Ciao ragazzi, ciao a tutti i ragazzi, ciao a tutti i ragazzi, oggi siamo nel video combo del combo con il set di Corvo, cioè il set Spirito della Vendetta che è composto da Condor, il suo backpack patto dello spirito, il giuramento e il tormento piccolo, il calano desidera scarlato se non sbaglio, scia caduta dell'anima che io adoro la descrizione che è cadi come i caduti, poesia, e la mimetica infine è un bravo indicativa, ora tutta questa roba ha due stili e innanzitutto mi volevo scusare se lo sguardo di oggi è stato, ah lo shop, lo sguardo allo shop di oggi, non so formulare le parole, è stato abbastanza corto e veloce e se mi sentite la voce un po' bassa è perché sto un po' male, quindi però non vi voglio lasciare senza video, quindi ho voluto comunque farlo, apprezzate questo, quindi vi chiedo un bel like, quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere subito le combo. Iniziamo subito con Condor, la skin, backpack a culi di ghiaccio nel secondo stile, quello rosso, cioè quello nero, piccone falce scarlatta, che sempre con questo rosso che balbetta tra il loro rosso plasticoso e il rosso neon, infatti lo conferma anche il torrano, quello di Demi, quanto scarlato, tutto scarlato, scia, bersaglio acquisito e mimetica, quella di Deadpool mercenario, comunque io regà vi voglio far notare che ci sono, sbagliato, due picconi che si chiamano falce scarlatta, questa cosa, boh, strana. Seconda combo, questa volta con i backpack skin, attacco rosso, backpack patto dello spirit e spacca, riprende per le parti dorate, è davvero una combo fighissima per me, con imbucati, o imbucati, credo si dica imbucati, deltaplano, Mike di Marvel se lo voglio, ombrello Mike di Marvel, che cazzo vuol dire Mike di Marvel? lo so solo chi c'è la sua, scia, volo del cavaliere, e mimetica, due volte dicevo, è venuto mercenario, e ora, scusate per questa sfista, solo che io la combo di Condor l'ho fatta un po' di tempo fa, quindi non c'avevo neanche troppo pensato il fatto che avevo fatto la stessa mimetica, o almeno l'ordine pensavo di farle più casualmente, ma poi skin e backpack non ne seguite. Questa combo è la mia preferita di quelle che ho fatto, abbiamo skin ibrido, backpack scudo rosso, che davvero ci sta un botto, questa è stata la mia prima skin, tra l'altro, insieme a cuore nero, picconeggioramente tormento, ci sto bene, cioè quello principale, deltaplano, c'è nero, spaccano, prende pure gli occhi sedi di si cambia stile, ma ho voluto, dal gusto tocco di blu, scia, lava, e mimetica, luciferino, che è bel betta tra questo rosso scuro e questo quasi arancione. Combo con deltaplano, anche questa la trovo molto carino, skin demi, back pocket sit per dare uno stile diciamo tecnologico, perché demi sembra quasi una segretaria, anche però questo braccio sipernetico, quindi sta, piccone match ascia, sempre quello stile, che si chiamava da loro, infatti si abbina da dio con il deltaplano desiderio scarlato, che sembra tipo le sue cuffie, che si sono evoluti in modi alla pokemon, scia, bersaglia acquisito, che è sempre questo stile tecnologico, e mimetica rosso viva. Combo con la scia questa volta, skin malevolenza, ali della valkyrie effusione, come backpack, piccone nitroglici adanti, ho voluto cambiare le sue ali, diciamo, è una combo abbastanza banale, ma mi ricordo che in season 8, wow, tipo, dico, no vabbè, che figato sarebbe, quindi tipo le ali però enormi, perché lei ha un po' la delicatezza della skin, ma allo stesso tempo gli dà un tocco brutale, piccone nitroglici adanti sempre questo stile un po' soft, diciamo, calmo, però con i colori suoi, deltaplano ali di intendanti, è una scelta un po' frettata, però ho visto soprattutto le corna mi hanno colpito, e che comunque vanno qua su un dorato, comunque su un piano lo potete vedere pure dall'icona, quindi ho scelto questo deltaplano che è rosso e dorato, provando un po' a cambiare, scia, caduta l'anima, che è quello per cui si sta combo, perché ho pensato anche che malevolenza, c'è la diva letta, io la chiamo, è morta, quindi credo sia una specie di demon, quindi ci stava, e infine mi metti che ha luciferino, perché è una diavola. Partiamo subito con quest'altra combo, che tra l'altro è l'ultima, e devo dire che questa è una delle più azzardate che ho mai fatto, partiamo subito con quello che ho voluto provare a fare un pilota di aerei, però di aerei terroristici, ok, non dico altro, con skin compagno di volo, beh, qua caliro venti, una specie di paracadute, boh, non lo so, come se si butta parte, piccone l'arma energetica, vabbè quello di Iron Man, marco 85 minchia, numero a caso inserire, che si abbina molto bene, deltaplano, quello della Marvel, più perché è un getto, quindi ci stava bene, scia, colpo di storm, boh, perché ma giusto, va impicchiata, i fulmini, tutta la tempesta, ci stava, e la protagonista, cioè la mimetica, ombra vendicativa, allora raga, spero di avervi fatto passare quei 5 minuti anche oggi, o quello che dura il video, io per il momento non ho niente a trovare, a parte di lasciare un bel like, perché Cristo, non so se ho la febbre, cosa, mi sento una merda, ma sono comunque qui a fare il video, a ditarle, a fare le frattute copertine, perché io ho la brutta abitudine di farle il giorno dopo, perché sono stanco morto, quindi, non so domani se vado a scuola, quindi forse vi posso anche pensare meglio, riprenderne, non lo so, per un momento io non ho niente a tradirvi, e dal prossimo video... Grazie a tutti!